buonasera di nuovo a tutti quanti benvenuti al nostro webinar dedicato ad erasmus più alle opportunità dell'accreditamento k 120 ea come si costruisce un erasmus un erasmus plan scusate è un incontro che molte persone ci hanno richiesto come dicevo poc'anzi nell'introduzione l'incontro a vedrà due fasi questa di oggi è una successiva che presenteremo al rientro dalle dalla pausa estiva il 12 di settembre però vi terremo aggiornati sulle nostre iniziative questa sera qui con noi abbiamo lucia cruschelli e marcella biserni e sono entrambe ambasciatrice erasmus sapete che dal 22 dal 2022 il programma il programma erasmus più si avvale della del valente collaborazione di un gruppo di ambasciatori di ambasciatrici che sul territorio nazionale offrono la loro consulenza il loro la loro e loro la loro expertise il loro e la loro esperienza in materia di progetti e progettazione erasmus in particolare lucia cruschelli è una docente di scuola media sto leggendo alcune note scusate se mi vedete con gli occhi bassi ma non ricordo tutto a memoria insegnano una scuola media all'istituto comprensivo cassola di cecina e ambasciatrice erasmus dal 2022 è stata studentessa erasmus quando frequentava l'università e ha scritto e coordinato due progetti k1 e adesso è coordinatrice erasmus coordinatrice del consorzio erasmus per l'aspetto dell'accreditamento il consorzio cassola guerrazzi di cecina marcella invece è una docente di scuola media di scuola di scuola superiore insegna lingua e cultura spagnola liceo linguistico livi carlo livi di prato e in passato insegnava a verona liceo fraccastoro di verona si occupa di didattica della lingua della e della cultura fatto parte dell'equip formativa territoriale del veneto e il suo progetto naturalmente anche lei ambasciatrice erasmus come avevo detto un'introduzione il suo progetto the ways of europe walking and learning è diventato role model erasmus nel 2022 io sono simona bernabèi e sono la referente pedagogica e twinning per la regione toscana vi do veramente di cuore il benvenuto al nostro nuovo webinar noi come sapete abbiamo un programma di webinar all'attivo nutrito perché abbiamo sempre lavorato in modalità a distanza in modalità mista in realtà perché abbiamo lavorato con eventi in presenza che ripartiranno con la riapertura del dell'anno scolastico dopo la pausa estiva e con molti molti eventi in a distanza non soltanto nel periodo del lockdown in particolare nel periodo del lockdown ma già molto tempo prima ci organizziamo in questo modo per questo webinar le mie colleghe faranno la loro presentazione io adesso metterò in chat un link che vedete adesso vedete questo documento io condividerò con voi il il link a questo a questo documento google doc su cui potrete lasciare fin dalle prime battute del webinar le vostre domande se possibile indicando il vostro nome semplicemente il vostro primo nome in modo che così poi sappiamo in fondo a chi ci rivolgiamo dicevo il webinar sarà organizzato in una prima fase di racconto del dell'accreditamento e di tutto ciò che è legato all'accreditamento e poi lasceremo spazio data l'importanza del tema alle vostre domande quindi vi preghiamo di non scrivere di non scrivere le domande in chat ma di utilizzare questo questo documento che adesso vi sto incollando sulla questo incollando sulla chat eccolo qua dovreste vederlo tutti e in modo tale che noi in fondo possiamo partire dalle domande e questo ci consente anche di diciamo leggerle e di averle tutte insieme quindi di un ci consente un approccio un pochino più uniforme alle domande consentitemi prima di passare la parola alle mie colleghe di eh salutare oltre a voi naturalmente tutti gli ambasciatori e le ambasciatrici erasmus più scuola che sono collegati e le nostre la nostra referente marini e la nostra referente e daniela cecchi che è stata è referente uscente di fatto ma che è stata con noi e continua a collaborare con noi presso l'ufficio scolastico regionale della toscana io non ruberei altro tempo le indicazioni diciamo circa dove troverete questa registrazione non c'è bisogno quindi che voi facciate foto di slide a meno che non lo vogliate perché comunque la registrazione poi vi diremo dove trovarla e eh e potrete naturalmente usarla con tutta la calma possibile io darei la palla a voi ecco siamo in modalità a tutto schermo datemi solo conferma che si veda bene che si veda bene la la slide a tutto schermo perché io a questo punto non non ho vedo soltanto la slide non vedo altro quindi voi la vedete bene la slide lucia chiedo a te sì sì e mi dicono cosa che mi dicono che il modulo non si apre magari chiediamo conferma anche da modulo non si apre questo è strano perché perché in realtà si apre come vedete quindi dovrebbero fare copia incolla in realtà questo è un link quindi vedete che si apre perché ci sono persone che stanno già scrivendo allora vi chiederei grande sintesi e grazie mille così poi possiamo rispondere al maggior numero di domande possibili possibili attenzione ricordo a tutti che si tratta di un documento collaborativo quindi dobbiamo avere un po di attenzione nell'utilizzarlo quindi magari scorrete in basso e lasciate sul file soltanto le vostre domande grazie mille allora rimetto in modalità presentazione e do la parola a voi grazie mille allora grazie mille simona salve a tutti io come ha detto simona sono licea cruschelli insegno inglese in una scuola media e diciamo che sono qui come ambasciatrice erasmus ma anche come parte di un gruppo di una commissione erasmus che negli anni ha lavorato e ci ha poi permesso di arrivare ad avere l'accreditamento nel subito nel secondo round nel 2021 se simona può scorrere solo per contestualizzare un po cos'è l'erasmus intanto l'erasmus è un programma della comunità europea dico cose che magari tutti sanno però è meglio in più che in meno è un programma della comunità europea ne può ne fanno parte 32 paesi sono i 27 stati membri dell'unione europea più cinque paesi che non sono parte dell'unione europea ma con cui si può collaborare e lavorare nelle mobilità erasmus e questi cinque paesi sono la turchia la macedonia del nord la norvegia l'islanda e lichtenstein quindi quando si pensa a fare una programmazione erasmus si può collaborare con questi 32 paesi esistono anche altri tipi di collaborazione come l'erasmus fondi ma non diciamo non riguardano l'istituzione scolastica noi possiamo collaborare con i 27 stati membri più questi cinque stati che non fanno parte dell'unione europea si può andare alla seconda slide solo per fare un piccolo storico l'erasmus nasce il 1987 come programma di mobilità degli studenti universitari io sono stata una delle prime sono andata in mobilità nel 90 quindi il terzo anno dell'erasmus il primo anno era solo educazione universitaria sono partiti 3.000 studenti di 11 nazioni e si trattava di mobilità individuali dopo 30 anni 2017 siamo già otti siamo già 35 in realtà quest'anno l'erasmus è diventato erasmus plus in 2014 questo significa che oltre all'educazione universitaria possono partecipare al programma erasmus la scuola l'educazione degli adulti lo sport la gioventù quindi erasmus a erasmus plus ha preso sotto il suo ombrello del 2014 tutti i programmi di scambio che riguardano l'educazione e in qualche modo le mobilità all'interno del dell'unione europea per fini educativi come vedete nel 2017 dopo 3 mila studenti dopo 30 anni sono partiti 9 milioni di persone e ne facevano parte a quei tempi 33 nazioni ora siamo a 32 dopo la brezza i numeri sono ancora in aumento e perché nel con l'ultimo settembre sono aumentati anche i fondi quindi è sempre più facile possibile diciamo non facile avere i fondi per realizzare le mobilità erasmus se puoi andare avanti un attimo simona la mobilità dicevamo è lo strumento principale dell'erasmus è quello che ci consente di costruire uno spazio europeo dell'apprendimento vedremo più tardi marcella poi ne parlerà più diffusamente delle priorità dell'erasmus e delle delle varie dei vari standard di qualità comunque quando si parla di erasmus fondamentalmente si parla di mobilità si parla di spostarsi in altri paesi di accogliere persone che vengono da altri paesi non europea nell'obiettivo l'obiettivo è l'apprendimento permanente l'occupazione la riduzione della povertà e la cittadinanza europea nella storia erasmus il 2021 se puoi andare alla prossima slide il 2021 è stato l'inizio del nuovo settembre l'erasmus i finanziamenti erasmus il progetto va per ogni sette anni quindi nel 2014 è nato l'erasmus plus nel 2021 e dal 2021 al 2017 è stata introdotta una nuova modalità di richiesta di finanziamenti che l'accreditamento lascio ora la parola marcella che vi spiegherà in dettaglio quali sono qual è la struttura del nuovo erasmus del nuovo settennio e la sua esperienza di accreditamento e di progettazione erasmus e poi tornerò io a raccontarvi un po' qual è stata la nostra esperienza di accreditamento di produzione di richieste accreditamento prego marcelli ecco una sera a tutti allora io in realtà sono nata nel dettaglio della mia esperienza del mio progetto che poi ripercorrerò velocemente già a marzo e potete trovare appunto tra i nostri webinar registrati nel canale youtube di twin in toscana la registrazione lucia poi invece ci darà un esempio concreto di un accreditamento vinto e in atto per una scuola secondaria di primo grado nel mio caso l'esperienza era stata fatta a verona noi avevamo vinto l'accreditamento già dal primo anno quando ancora sapevamo veramente pochissimo e aspettavamo le notizie di mese in mese dall'agenzia perché appunto era il primo anno 2021 dell'accreditamento però diciamo che al tempo sono 270 scuole avevano fatto domanda in italia per cui i fondi erano anche di più adesso fortunatamente le scuole che hanno fatto domanda che hanno vinto sono aumentate e sono e sono sempre più in aumento andiamo quindi alla slide successiva le priorità come già si vedeva dalla scheda precedentemente le quattro priorità del settennio di erasmus plus sono l'inclusione della diversità transizione digitale la sostenibilità ambientale cambiamento climatico la partecipazione alla vita democratica questi quattro cardini sono fondamentali da tenere presente nello scrivere un accreditamento l'accreditamento chiamato anche k 120 va presentato come scuola a ottobre la scadenza l'anno scorso e anche il prossimo anno è il 19 ottobre e il consiglio il primo consiglio che chiediamo e nel motivo anche per cui abbiamo deciso di fare questo webinar in maggio è di cominciare già da ora ad allestire perlomeno la struttura la commissione le persone che parteciperanno alla scrittura a coinvolgere chiaramente i dirigenti e i dsg a per non arrivare a settembre quando sappiamo che siamo tutti molto impegnati con rientro a scuola e scriverlo velocemente e quindi si parte sicuramente dal background della scuola come vedremo un po meglio dopo con un esempio magari che porto personale i bisogni quindi della scuola sono il primo punto da cui partire e perché la pianificazione dell'accreditamento del k 120 deve essere coerente snella chiara e coerente però poi gli obiettivi quindi i progetti mirati che si vogliono costruire devono tenere presente queste priorità o almeno due tre dipende quanti obiettivi si decide di presentare passiamo alla slide successiva ecco qui nel dettaglio appunto la partecipazione e il programma sociale nella cittadinanza adesso per esempio io riuscì abbiamo partecipato a dicembre in dicembre a una tca internazionale erasmus che era pisa intitolata pisa e si focalizzava proprio sul civic engagement e quindi su come far partecipare tutta la scuola i discenti ma anche lo staff a la vita civica della propria scuola del proprio territorio ma ovviamente a livello europeo e quindi sensibilizzare in merito al contesto europeo i nostri istituti e anche coinvolgendo se possibile il territorio l'inclusione alcuni progetti hanno mirano a un'inclusione sia dei partiti dei discenti besso con difficoltà ma anche a livello di gap di genere e quindi sviluppare progetti stem per infondere le materie scientifiche e creare una maggiore partecipazione da parte delle delle ragazze delle studentesse le pari opportunità appunto il parità di accesso il parità di accesso l'inclusione la diversità e l'equità su tutte le situazioni andiamo avanti andiamo alla slide successiva ecco l'innovazione digitale chiaramente la progettazione dovrebbe seguire il nostro pnsd adesso tanto di più visto tanto più visto che il pnr è in corso e quindi le nostre scuole riceveranno maggiori fondi anche per implementare sia gli ambienti digitali che le metodologie diattiche innovative e quindi rafforzare anche la cooperazione a livello europeo perché perché attraverso piattaforma digitale come già ci insegna ci ha insegnato i twinning oggi esep questa collaborazione a livello europeo anche la ricerca di partner quindi una la creazione di una rete di collaborazione tra scuole tra parternariati europei è molto più facile ed è assolutamente necessaria da qui poi la necessità sappiamo di portare i nostri studenti le competenze tecnologiche appunto nell'era digitale e da cittadini europei e infine la sostenibilità che segue il passo e le linee tracciate dal green deal europeo e chiaramente dentro a una progettazione ca 120 è possibile o spiccabile inserire un obiettivo focalizzato sulla sostenibilità il mio esempio è quello del progetto cammini il progetto di cui parlava che ricordava prima simona che è diventato un role model the ways of europe e working and learning che sta a fine peraltro in questi in questi mesi l'ultima mobilità si svolgerà in ottobre e in questo caso si focalizzava sul turismo lento sulla una nuova modalità di viaggiare di guardare l'ambiente di conoscere il territorio l'impatto di questo tipo di turismo sul territorio ma chiaramente tutti i progetti che hanno a che fare con l'ambiente sono sono i benvenuti andiamo avanti a con la slide ecco allora quindi come partecipare dicevo prima la scadenza ad ottobre mentre attenzione non bisogna confondere ca 120 che siamo parlano sempre di accreditamento azione chiave 1 che è la mobilità per gli studenti e anche per lo staff allora io in passato ho coordinato per la scuola di verona un progetto k 229 qualcuno di voi magari avrà gestito uno di questi progetti o avrà fatto parte di una di un progetto come partner o come scuola coordinatrice al tempo questi progetti quindi dividevano il budget tra le scuole partner e il progetto era unico da presentare questi progetti non esistono più la possibilità il modo per creare mobilità per gruppi o individuali per i nostri studenti e poi anche per lo staff è la chiave 1 della chiave 2 avevamo già parlato in gennaio e poi nello specifico con l'esempio di alcuni progetti in marzo in questo caso in questo webinar ci concentriamo sull'accreditamento quindi azione chiave 1 120 per le scuole e poi il 121 che è praticamente il passo successivo una volta ottenuto se si ottiene l'accreditamento quindi si presenta con il form che poi vi faccio vedere come accedere che va compilato la richiesta di ca 120 con partendo dai nostri bisogni dei bisogni al background la scuola e poi gli obiettivi che si vogliono realizzare per migliorare appunto la nostra istituzione scolastica attraverso le mobilità erasmus e aprirla quindi all'europa e se si ottiene l'accreditamento a febbraio si deve presentare quest'anno la scadenza del 23 febbraio non ricordo male si deve presentare il ca 121 ed è anche di quello poi vedremo una schermata ovvero il piano delle mobilità nello specifico quali mobilità quante e che tipo di mobilità si richiedono sul ca 122 non ci soffermiamo anche su questo era stato fatto un webinar 24 gennaio solo posso dirvi ecco che in questo caso sono progetti a breve termine magari più per chi ha la prima esperienza e non sarà sente di fare un accreditamento si potrebbe provare con questo tipo di progetti che appunto a breve termine mentre l'accreditamento ca 120 poi una volta ottenuto dura fino al 2027 quindi alla fine del settembre e per il ca 32 appunto non c'è bisogno dell'accreditamento è un progetto specifico che va presentato sempre ai primi di ottobre e lo stesso magari poi alla fine ne parleremo abbiamo messo un po da parte in questo in questo webinar il consorzio si può partecipare anche all'accreditamento come consorzio ma magari ne parleremo appunto alla fine soprattutto lucia che è coordinatrice di un consorzio andiamo avanti ecco cosa si può fare una volta tenuto l'accreditamento dicevo prima la mobilità alunni si concentra in particolar modo nell'azione chiave 1 nel ca 1 e le tipologie di mobilità riguardano però anche lo staff le azioni che si possono concretizzare poi variano dal job shadowing che può essere vedremo dopo una slide successiva di tot giorni corsi di formazione normalmente di una settimana sempre per lo staff proprio i docenti o attività questa novità di quest'anno di teaching e poi la mobilità alunni che può essere di gruppo mobilità individuale breve o a lunga durata oppure invitare esperti fare visite preparatorie quando si inviano per esempio studenti a mobilità individuale per un mese in una scuola che magari non si conosce però abbiamo preso contatti con questa scuola tramite le piattaforme sarebbe auspicabile inviare un docente per verificare per conoscere meglio la scuola per vedere se ci sono particolari necessità o differenze e preparare poi quindi chi dovrà andare a svolgere la propria permanenza si possono anche programmare mobilità lunga durata questo vuol dire per mesi normalmente non si fa perché chiaramente si cerca di ampliare di dare più possibilità più studenti e non a poche persone oppure ospitare docenti e tirocinanti andiamo avanti qui nello specifico nella prossima slide vediamo appunto questo che sono queste queste attività possibili gli esperti devono essere assolutamente stranieri venire dall'estero ecco questa è un'altra cosa che magari può sembrare una banalità ma che ho trovato invece non così scontata ovvero se si prende un accreditamento si accreditamento erasmus paga per il nostro istituto le nostre mobilità cioè le mobilità dei nostri docenti staff o studenti ma nel momento in cui noi per esempio facciamo uno scambio e poi ospitiamo i partner stranieri e programmiamo delle attività sul territorio quelle attività non vengono pagate per i nostri studenti in italia erasmus paga le attività all'estero così come paga l'arrivo e l'ospitalità di esperti però che vengono dall'estero da quei paesi che citava prima appunto lucia lo stesso per ospitare insegnanti educatori di formazione che vedete la possibilità della durata dei giorni le visite preparatorie e il job sharing che può durare da due a 60 giorni e la partecipazione a corsi strutturati appunto da due a trenta giorni normalmente si creano corsi di una settimana per far partecipare più persone o per creare più corsi su argomenti diversi andiamo avanti con la prossima slide ecco sì oltre la mobilità fisica c'era scritto si può anche prevedere una mobilità virtuale proprio oggi leggevano il gruppo nazionale che chiedevano le colleghe come può inserirlo nel mobility tool anche questo è un qualcosa che è auspicabile fare come poi del resto chi è abituato a lavorare nei twinning fa da anni e qui non c'è durata specifica ma è tutto tutto più a più ampio più non c'è un budget e quindi è libero andiamo avanti e qui di nuovo lo specifico dei giorni quindi ecco la mobilità blended non prevede limiti temporali poi queste slide comunque le riceverete per cui le potrete rivedere in caso di dubbio o quando metterete in atto poi queste azioni andiamo avanti ecco qui è un po quello che dicevo prima mobilità per lo staff e per gli alunni accreditamento caccia 120 e poi la richiesta di finanziamento caccia 121 per le scuole che hanno ricevuto l'accreditamento normalmente verso febbraio arriva una mail da parte dell'agenzia che chiede di prepararsi al caccia 121 quindi ancora magari come è successo quest'anno l'ufficialità di aver ottenuto l'accreditamento non c'è ma se arriva quella mail è praticamente certo che sia ottenuto altrimenti arriva una mail in cui si spiegano le motivazioni della bocciatura del progetto ecco andiamo avanti qui una volta ottenuto quindi ma anche già nella preparazione del caccia 120 per partendo ripeto dal nostro background di scuola e quindi dagli obiettivi più necessari e quindi anche dal rav europeo dai documenti che ci che vanno indicati poi nella nel forma e che ci guidano nel nostro nella nostra progettazione questo in questo link in questo a questo link si possono consultare delle buone pratiche e quindi degli esempi di progetti che hanno avuto particolarmente successo o che sono stati già svolti per avere attenzione non si possono assolutamente copiare i progetti di altre scuole io stessa il mio progetto cammini adesso che ho cambiato scuola lo posso riproporre ovviamente un progetto sui cammini ma è sul turismo lento con modalità o comunque con contenuti diversi non può essere lo stesso di quello che io stessa avevo fatto a verona ma sicuramente si possono prendere degli spunti per poter progettare poi i nostri obiettivi e scrivere la candidatura in modo razionale leggendo bene domande ovvero i vari punti che poi ci portano a compilare il form e le indicazioni specifiche appunto per ogni per ogni domanda dei punti richiesti il web form è a questo link ma ci sono delle slide dopo che un po lo riprendono e quindi il web form poi ha dei caratteri a seconda delle domande a seconda dei punti che variano dai 2000 2005 5.000 caratteri quindi ovviamente poi andrà il tutto snellito in modo tale che rientri nei caratteri richiesti andiamo avanti però è chiaro che se la vostra organizzazione se la vostra scuola non ha mai fatto progetti erasmus sarà necessario comunque creare un eu login per poter entrare qui lo stesso web gate per per potersi iscrivere chi è già iscritto ai twini chi era iscritto ai twini adesso esep sarebbe opportuno mantenere la stessa mail parlo per i docenti andiamo avanti questo prima di iniziare lo stesso se appunto non si è mai partecipato è necessario che l'organizzazione per la quale si presenta domanda di accreditamento abbia un oid e quindi bisogna registrare e anche compilare il legal idea entiti il modello di identificazione finanziaria dell'istituto che si può scaricare all'interno del del sito sostituisce lo id il vecchio pic number una volta poi ottenuto si potrà procedere alla compilazione del forma avendo quindi lo id della scuola avendo l'accesso in prima di tutto alla piattaforma poi lo id della scuola i documenti sulla identificazione finanziaria a posto e si potrà procedere poi con l'azione che abbiamo scelto di di eseguire andiamo avanti e ecco questo è l'appunto il come ci sta la propria organizzazione questo è il web gate il sito da dove entrare e dove poter poi ottenere lo id andiamo avanti ecco queste sono è la pagina delle calls quindi una volta ottenute le nostre i nostri nostri referenze per accedere e per presentare la domanda possiamo scegliere quale a quale azione candidarci quindi avete varie negli altri web e non sono state anche maggiormente specificate nel nostro caso è il ca 120 sarebbe il form per il ca 120 quindi cliccando sopra una manifestazione poi si va alla pagina del form da compilare per per inviare la nostra candidatura andiamo avanti ecco un punto abbastanza importante quando si scrive un ca 120 sicuramente si parte dai bisogni della scuola per esempio nella mia ex scuola c'era castoro noi pensammo a un obiettivo che sviluppasse le competenze cli nei docenti in modo tale che poi queste ricadessero sugli studenti perché negli anni avevamo provato a con alcune docenti che erano un po più esperte di cli che avevano un buon livello di lingua o francese inglese a attivare il percorso in alcune classi o anche dei corsi per i docenti ma senza successo con una commissione cli quindi mancava questo punto questo tipo di competenze e quindi avevamo scritto un obiettivo pensando poi ad un corso specifico che poi sto realizzato per i docenti non di lingue e quindi docenti cli e in questo caso non c'è bisogno di avere dei partner al momento dell'ottenimento di accreditamento e poi della richiesta del ca 121 avevamo richiesto un tot di mobilità per un tot di docenti di una settimana e come vi dirò anche dopo nel ca 121 non dobbiamo specificare dove andiamo in che periodo andiamo ma solo quante mobilità quindi 7 8 10 docenti in questo caso e staff tra segreteria e docenti e per permanenza di una settimana per un corso cli sulla metodologia cli ci siamo poi attivate per cercare la scuola in irlanda in questo caso che ospitasse che fosse idonea a questo tipo di percorso e poi abbiamo fatto un bando per scegliere i docenti da mandare nel caso invece di mobilità studenti e quindi uno scambio con altre scuole come era il mio progetto cammini meglio sarebbe certo avere già i partner un'idea chiara ma diciamo che al momento del ca 120 non è del tutto necessario al momento del ca 120 io avevo chiaro il mio obiettivo sulla sostenibilità e dove portare la scuola insieme alle colleghe per aumentare la consapevolezza sulla su questo piano dell'istituto ma ma non non avevo i partner ancora non avevo neanche scritto il progetto avevo l'idea subito dopo l'ho scritto l'ho presentato sui twinning ho cercato i partner sui twinning e poi una volta trovati partner lo abbiamo fatto a provare sui twinning e da lì siamo partiti e poi avendo ottenuto l'accreditamento il progetto è stato finanziato dall'accreditamento sicuramente quando si va poi però a presentare il ca 121 per le mobilità degli studenti e quindi si pensa di mandare gli studenti in spagna faccio per dire io insegno spagnolo per una settimana mobilità quindi breve termine è necessario sarebbe auspicabile avere già la scuola partner dove mandati non si può pensare ok voglio mandare gli studenti in spagna settimana chiedo una mobilità di sette giorni per 15 studenti però ancora devo cercare il partner no questo è fortemente sconsigliato nella fase di ca 121 nella fase ca 120 se si hanno già meglio e il modo per trovarli è appunto una di queste piattaforme gateway oppure esep al tempo appunto in 2020 i twinning adesso esep oppure partner che già avevamo e anche i canali facebook come i gruppi su erasmo sono moltissimi andiamo avanti andiamo avanti con la con la sla con le slide questi sono i principi di qualità erasmus cioè che i principi che un po riprendono i quattro pilastri di erasmus plus del settennio ma che anche i valutatori poi terranno in conto nel valutare la vostra candidatura e quindi quanto negli obiettivi quanta inclusione quanta importanza digitale quanto di sostenibilità e anche la buona gestione titolarità e condivisione questo è un punto fondamentale fondamentale innanzitutto non si può delegare un'agenzia esterna per scrivere il ca 120 quindi la candidatura e anche successivamente una volta ottenuto l'accreditamento non si può delegare tutto a un'agenzia anzi sarebbe auspicabile che i docenti come voi seguissero i webinar ci chiedessero aiuto a noi ambasciatori i nostri riferimenti ritrovate nel sito erasmus e quindi gestire i progetti e insieme avendo più polso anche della scuola delle classi della didattica ma soprattutto in maniera condivisa quindi è necessario prima di mettersi a scrivere il ca 120 creare una commissione più possibile condivisa se ci sono più indirizzi sto parlando delle superiori in particolare ma anche tra insegnanti di più discipline quindi anche per le medie come per le superiori e poi il coinvolgimento della dsga o del dsga e della dirigente o della dirigente chi scrive erasmus chi ha la buona volontà in primis di scrivere un accreditamento e magari poi lo ottiene però non può pensare che erasmus poi è l'accreditamento è suo e quindi mantenerlo fino al 2027 nel senso lo può fare e certo ogni scuola poi si gestisce ma sarebbe auspicabile una turnazione sarebbe anche perché come dice la stessa agenzia se quella persona poi per qualsiasi motivo per un trasferimento per un pensionamento viene a mancare all'istituto poi chi gestisce chi porta avanti quindi è meglio sicuramente una buona prassi e questo va scritto anche nel forma una gestione condivisa con più persone che si hanno esperienza o se la creano e che poi turnano e quindi poi la qualità al supporto dei partecipanti chiaro che erasmus l'accreditamento non è solo per i più bravi i più esperti no anzi normalmente come anche succede nell'ex e twinning esep nelle attuali tca spesso vengono favoriti le persone che hanno meno esperienza erasmus a vantaggio vediamo poi una slide successiva i newcomers proprio le scuole che finora non hanno avuto accesso e che necessitano questo ampliamento questa apertura verso l'europa e così all'interno della scuola dovrebbe essere perlomeno non sempre ma la maggior parte dei casi favorire le persone che hanno voglia di crearsi un'esperienza e di imparare non solo chi ha punteggio perché ha già esperienza o perché da più anni in quella scuola questo non è il bonus merito ecco le i bandi si creano in base alle competenze vi facevo l'esempio prima del nostro bando per la selezione dei docenti per il corso cli in irlanda chiaramente un vantaggio un punto in più ce l'avevano non ricordo quanti punti in realtà insomma dei punti in più ce l'avevano le docenti non di lingua che potevano provare con una certificazione di avere un livello di inglese b2 è chiaro perché poi nel momento in cui andavano in irlanda a imparare metodologia cli a settembre avrebbero riversato e questo era stato chiesto loro come priorità per la partecipazione avrebbero riversato questa esperienza in lingua inglese in maniera chiaramente più soddisfacente di chi una certificazione non ce l'aveva ma quindi si va per competenze specifiche non per per bravura o meriti a priori andiamo avanti andiamo avanti ecco e qui abbiamo appunto le fasi l'ideazione la pianificazione quindi si parte dai bisogni come dicevo prima la corrispondenza con le tematiche dell'azione il programma ricerca partner ad hoc la pianificazione gli obiettivi comuni da raggiungere risultati comuni da realizzare l'implementazione il monitoraggio ecco questo non deve mancare nel form una volta descritti gli obiettivi che vanno a tamponare del lacune nel nostro background o a migliorarle come poi una volta svolte le mobilità si potrà andare a monitorare e valutare le azioni svolte l'analisi del percorso con vari misuratori e poi la conclusione del progetto l'impatto e la disseminazione importantissima anche questa per la valorizzazione della squadra del progetto e chiaramente dei fondi erasmus andiamo avanti questo è queste sono le domande i punti che trovate nel form che sono in inglese poi però la candidatura si scrive in italiano noi la scrivemo in italiano se simona puoi far vedere poi scorrere velocemente verso gli obiettivi quella quella bozza ecco una modalità per esempio per iniziare a lavorare già da adesso alla struttura del accreditamento è creare un file un documento condiviso on drive con la commissione e cominciare a scrivere a riempire i punti del forno chiaramente in questo caso molte erano le idee e una volta stabiliti quali progetti seguire snellire il tutto in modo da rispettare i caratteri del form quindi qui se puoi scorrere velocemente c'è la descrizione della scuola che va fatta quindi il nostro background il tipo di studenti poi si allegheranno i vari documenti appunto rav piano internazionalizzazione le esperienze erasmus pregresse o anche di altri tipi di di mobilità sempre europee andiamo giù andiamo giù e andiamo giù andiamo giù le varie esperienze quantità di studenti indirizzi andiamo giù qui appunto un ex progetto ancora più sotto e passiamo agli obiettivi ecco a un certo punto dopo la descrizione andiamo sotto delle nostre esperienze passate della scuola si arriva obiettivo 1 eccolo qua per esempio certificazione linguistica e cli le dc compi in chiave europea quindi si dà un titolo come in questo caso cosa si vuole raggiungere quale obiettivo e quindi la sfida i bisogni che no a questo tipo di obiettivo va a riempire rispetto al nostro background e quindi con un corso pre partenza 10 ore di lezioni in ore strascolastico eccetera eccetera andiamo avanti il tipo di formazione che noi volevamo dare alla fine i tempi e quindi quando si prevede di cominciare come quindi le scuole di lingua per lo staff e verranno scelte tramite le piattaforme consone per esempio school education gateway e poi alla fine i misuratori il misuratore sotto si esatto cosa permetterà quindi di migliorare questo tipo di progetto i misuratori come poi misureremo una volta fatta la mobilità il nostro il nostro lavoro attraverso la creazione di un blog oppure feedback tramite questionari di google moduli i docenti coinvolti le mobilità dovranno riportare nelle loro classi quanto appreso modificando il loro metodo di insegnamento allo stesso tempo avranno cura di rifondere le buone pratiche acquisite tra le colleghe e i colleghi quindi si potrà fare poi una formazione peer to peer all'interno della scuola per esempio sotto l'ultimo esempio l'obiettivo 2 abbiamo messo sostenibilità slow communities on the road inclusion works quindi vedete il mio progetto cammini con un altro titolo e con e con delle una priorità un focus sull'inclusione e aveva dei contenuti in questi contenuti in questo caso focalizzati nella gente del miniatra sulla non solo sulla sostenibilità ma anche sulla le pari opportunità e quindi sul gap di genere le donne in cammino la possibilità per tutti e tutte di poter fare un viaggio del genere e quindi spronare e questo è un tema importante le ragazze sono sempre molto sensibili alle ragazze a sfidare i propri limiti e a capire che non c'è nessuna paura e anche loro possono fare un cammino da sole andiamo avanti andiamo avanti ecco potrebbe essere all inserito dentro all'interno del pcto per l'empowerment femminile lo slow tech e quindi tutto il tutto una un contenuto sull'etica digitale e le stem sempre il timing e poi i misuratori quindi questo è un esempio un consiglio che do per procedere un file drive condiviso dove inserire quello che poi verrà a posto nel form in ottobre se ritorniamo la presentazione simona io cerco di chiudere e andiamo a quella successiva alla slide successiva si qui principi base quello che abbiamo detto finora una gestione i principi gli standard di qualità che poi dobbiamo tener conto perché poi sono la griglia di valutazione dei valutatori quindi l'inclusione dell'ambiente sempre no le nostre priorità la selezione trasparente vedete servizi di qualità e associazione dei partecipanti selezione trasparente preparazione alle mobilità monitoraggio sostegno ai partecipanti adeguata c'è un coinvolgimento ampio di tutto l'istituto erasmus non è solo di poche persone e non solo di chi lo scrive condivisione dei risultati di seminazione all'interno e all'esterno visibilità dei fondi eu chiaro che quando poi io vado a pubblicizzare il mio progetto o sui giornali o sul sito della scuola il logo di erasmus dovrà essere sempre presente andiamo avanti ecco la relevance la valutazione quantità dei progetti la progettazione di implementazione e l'impatto come vedete in newcomers e minori opportunità quindi le scuole che non hanno ancora esperienza erasmus verranno certamente privilegiate si applica il principio di proporzionalità e poi la coerenza tra bisogni obiettivi target risultati attesi quindi la chiarezza come si diceva prima la coerenza sono fondamentali dettagliare le attività strettamente legata agli obiettivi progettuali il budget deve essere realistico tematiche trasversali quindi no del programma le pratiche green l'apprendimento digitale quelle che dicevamo prima andiamo sotto all'altra slide ecco questo è un esempio di ca 121 allora il momento a febbraio che si anche in questo caso ogni scuola poi si gestisce mio consiglio è la commissione diffonde questo tipo di documento drive quindi questo schema questa tabella in vuota solo con la parte iniziale quindi attività studenti giorni progetto numero accompagnatori visita preparatoria oppure sì o no lo diffonde il più possibile magari a dipartimenti nelle scuole superiori o nelle varie classi ai coordinatori nelle scuole di primo grado e chi ha una idea magari anche al di fuori della commissione per un progetto può può inserirla in questa tabella e poi fare una riunione per discutere quali progetti è possibile portare avanti perché chiaramente la coperta è sempre un po un po corta e quali altri magari rimandare ecco erasmus non è la panacea degli scambi cioè finanziare gli scambi già esistenti faccio esempio la mia scuola l'anno scorso avere gli scambi in germania dove i ragazzi andavano in treno i costi quindi erano comunque ridotti se ci sono dei progetti che invece hanno bisogno di soldi per essere realizzati come era il mio progetto cammini o come era il progetto che è stato appena realizzato in svezia dal collega non andavano con una scuola parte ma non avevano l'accoglienza in casa sapete che la svezia è carissima e quindi è chiaro che c'era bisogno dell'aiuto di erasmus si privilegiano questo tipo di progetti anziché finanziare un'intera classe o sempre quella se proprio si fanno degli scambi si fanno degli scambi trasversali quindi che prendono più persone da più classi in modo tale da dare appunto da spalmare i soldi su tutti gli indirizzi della scuola su tutte le classi possibili su più classi su più classi possibili e qui appunto c'era l'esempio del progetto cammini in primo caso 15 ragazze per una mobilità individuale 10 giorni avevamo in quel caso soldi perché solo due mobilità a causa della pandemia avevamo previsto ed era il primo anno dell'accreditamento quindi c'erano più fondi il secondo anno 13 studenti invece per 7 giorni in mobilità di gruppo sulla francigena francese che è stato svolto adesso a marzo e poi appunto come vi dicevo il corso per i docenti CLIL poi un esperto dalla Francia e poi c'erano appunto i progetti dei colleghi in Svezia un altro in Irlanda eccetera eccetera andiamo avanti ecco Erasmus può quindi aiutare a realizzare anzi certe volte è essenziale e indispensabile come nel mio caso progetti di questo tipo il progetto di questo tipo è costato sugli 850 euro a persona e capite bene non si può chiedere una famiglia 850 euro e quindi senza Erasmus il progetto cammini non sarebbe stato possibile infatti la mia scuola attuale non aveva l'accreditamento fino a quest'anno e io non ho potuto proporre un progetto del genere lo farò il prossimo anno adesso che abbiamo l'accreditamento se vuoi fare un giro nel sito lo facciamo magari dopo alla fine della presentazione magari come vuoi come preferisci Marcella dimmi tu il sito era il prodotto finale quindi il misuratore uno tra i misuratori ma il principale misuratore perché all'interno troviamo vari prodotti materiali realizzati dai ragazzi sia a distanza tramite le piattaforme sia poi in loco con le interviste ai vari pellegrini o a un ospitaleros albergatori eccetera eccetera come vedete ecco ci sono gli eventi, i dati works, le interviste e quindi questo è il progetto la presentazione del progetto, poi le conferenze che avevamo fatto online e poi appunto i lavori dei ragazzi è stato un po' il nostro misuratore e anche disseminatore cioè una modalità per fare disseminazione del progetto questo è lo sonido del cammino che è un sottoprogetto di The Ways of Europe creato dalla scuola partner di Pamplona che è un liceo musicale e quindi loro si sono focalizzati sullo studio dei suoni chiaramente del cammino sulle antiche canzoni dei pellegrini in questo caso nel corso dell'accoglienza a Verona il cammino quindi era la via Postumia da Verona a Mantua ecco io per ora mi fermerei qui magari poi vediamo alla fine se riusciamo a far vedere un esempio di bando a seconda delle domande sicuramente le domande guarda già vi annuncio intanto informazioni di servizio vi ho inviato il link al file delle domande sia a te Marcella che a Lucia quindi volendo ve lo potrete anche aprire sul telefono o sul vostro pc e potete cominciare a dare un'occhiata le domande sono varie quindi riprende la parola a Lucia sì esatto grazie Marcella allora il mio invece è un esempio di accreditamento per una scuola media questo è il sito che abbiamo creato come vedete c'è il sito Castora Guerrati però l'accreditamento nasce per la scuola media Galilei nel 2020 subito dopo la pandemia quindi si usciva dal lockdown e dovevamo pensare un po' quali erano i bisogni della scuola e cosa si poteva fare attraverso Erasmus per migliorare la qualità dell'insegnamento e anche la qualità della vita proprio a scuola, vita scolastica degli insegnanti e dei docenti questo sito l'abbiamo anche usato come mezzo di disseminazione quindi è diventato un po' una specie di repository delle nostre azioni ma anche un diario di bordo perché via via che venivano implementate le varie mobilità ognuno era un po' responsabile di una pagina in cui raccontava come proprio in un diario di bordo la sua mobilità, le lezioni apprese eccetera cliccando da qualche parte si dovrebbe aprire il sito ma non importa comunque lo trovate è un sito Weebly se scorri un attimino si vede una parte del questa è appunto la targa che ci è stata data per l'accreditamento sotto ancora una parte della commissione e vorrei sottolineare che è importante come diceva benissimo Marcella che sia una commissione a pensare un Erasmus perché la diciamo sia la progettazione ma poi soprattutto l'implementazione è molto complessa e se non c'è una commissione che poi fa ricadere i risultati sull'istituto diciamo che si vanifica un po' anche il diga dell'Erasmus se puoi tornare il sito poi magari se volete ecco ci sono le varie mobilità possiamo poi condividere il link nella chat se ho una voglia di andarla a vedere c'è un po' la storia di come nasce questo accreditamento quello che volevo condividere con voi oggi anche dopo che molte scuole ci hanno contattato come ambasciatori per chiedere com'è che si fa un progetto di accreditamento vi ho condiviso, provo a condividervi il modello che noi abbiamo compilato e sottolineando alcune cose che bisogna tenere presente e che abbiamo imparato parlo di noi, non così plurale maestratis ma noi come commissione perché appunto è stato un accreditamento che abbiamo fatto insieme come commissione Erasmus negli anni una commissione che si è poi anche ampliata nel tempo quindi quando aprirete come vi ha fatto vedere Marcella aprirete il vostro form, chiederete l'accreditamento metterete l'OID in automatico vi si riempono tutti i campi del vostro istituto dovrete indicare i dati della dirigente scolata che poi è la responsabile finale a tutti gli effetti quella che deve firmare anche l'accreditamento la richiesta di accreditamento metterete una persona di contatto che è quella che poi avrà accesso per esempio al beneficiary module dove viene fatta la ricontazione consiglio di mettere altre persone almeno un'altra o due persone che comunque possano avere accesso ai vari atti perché in ogni caso è bene condividere anche questa responsabilità quindi aperto il modulo messe le persone responsabili vi si chiede di presentare la vostra organizzazione quali sono le attività principali che tipo di programma di apprendimento viene offerto e qui bisogna essere specifici di solito questi dati si prendono da TOF che è il documento della scuola quello ufficiale quindi si dice quanti plessi quante persone quanti indirizzi quanti alunni se ci sono delle particolarità delle sfide particolari per esempio sulla disabilità o sui migranti di prima e seconda generazione la seconda domanda nella prossima diapositiva viene chiesto di descrivere la struttura dell'organizzazione e qui ancora una volta bisogna spiegare com'è che viene quindi ci sono vari dipartimenti se c'è più di un campo in cui si lavora per esempio una scuola superiore con vari indirizzi quali sono gli indirizzi coinvolti tutti uno nello specifico e com'è che verrà fatto il management di tutta l'accreditamento chi sono le persone chiavi quindi qui bisogna essere specifici non tanto con i nomi ma spesso io ho anche messo i nomi con le qualità nel senso le competenze specifiche che queste persone portavano dentro l'accreditamento Erasmus ovviamente sempre meglio fare un riferimento preciso al PTOF il PTOF è il documento la carta d'identità della scuola è il piano triennale dell'offerta formativa mettere i riferimenti precisi aiuta noi perché conosciamo bene il PTOF ma aumenta anche la possibilità di avere un punteggio alto perché ci deve essere una consistency una corrispondenza tra quello che noi chiediamo e il piano della scuola andando avanti un'altra cosa che viene chiesta sono i bisogni e questa diciamo che è la parte fondamentale tutta la richiesta di accreditamento parte proprio dai bisogni e bisogna in questa parte è necessario fare riferimento ai documenti fondanti della scuola che sono il TOF ma ancora prima il RAV cioè il rapporto di autobalutazione e il piano di miglioramento qui poi vedrete se avete voglia di legge questa è solo una parte ho messo solo l'inizio perché ovviamente la descrizione è più complessa per noi che uscivamo nel 2020 da un lockdown le emergenze erano l'uso del digitale per cui abbiamo visto che i ragazzini nativi digitali in realtà erano solo utenti passivi ma gli mancavano le skills per un uso creativo quindi questo era il bisogno il primo bisogno che abbiamo evidenziato un altro bisogno erano i dati in crescita sul malessere infantile giovanile il ritiro scolastico il bullismo tutta una serie di problematiche psicologiche che nascevano fuori dalla scuola ma che la scuola poi specialmente la scuola media che è un periodo molto bello ma molto complicato di passaggio si trovava a gestire per cui anche qui i nostri bisogni erano sottolineati erano agganciati sempre al riferimento preciso al RAV, al TOF e ovviamente al piano di miglioramento andando avanti anche qui come diceva Marcella gli obiettivi potrebbero anche essere i 10 però se vogliamo che in qualche modo il piano Erasmus abbia effetti bisogna focalizzarsi sui bisogni principali quindi individuare i bisogni principali e a quel punto quali sono i nostri obiettivi per rispondere a questi bisogni noi ne abbiamo dopo lunga discussione individuati tre questa discussione è andata avanti come diceva giustamente Marcella partendo da un documento condiviso anche per noi però facendo anche noi abbiamo fatto un Google Form rivolto a tutto l'istituto in cui abbiamo chiesto ai nostri colleghi e anche al personale diciamo non docente quali erano i loro bisogni formativi per cui a partire da un RAV, TOF ma anche una rilevazione dei bisogni formativi abbiamo formulato i nostri obiettivi anche qui appunto una breve descrizione dell'obiettivo sviluppo delle competenze digitali per l'inclusione costruire la conoscenza attraverso la creatività digitale in una scuola inclusiva bisogna poi spiegare in che modo questo obiettivo è legato ai bisogni e alle sfide che abbiamo spiegato nella sezione di background il timing e come saranno organizzate quindi la cronologia delle azioni e infine come si misura come si misura i progressi ottenuti e qui può essere una misurazione numerica un tot di certificazioni digitali acquisite in seguito a un corso oppure narrativa si può fare un dialogo di bordo si può fare dei deforma in entrate e in uscita per misurare anche in modo soggettivo narrativamente se abbiamo o no ottenuto questi risultati il nostro secondo obiettivo se puoi andare avanti Simona era riguardava il benessere psicofisico lo stare bene a scuola e per cui stavamo facendo una formazione sul social emotional learning quindi l'apprendimento socio emotivo avevamo anche una sperimentazione sull'outdoor secondo noi era importante proporre in un post pandemia queste due possibili metodologie come risoluzione come una possibile strumento per migliorare il benessere a scuola sia degli insegnanti che degli studenti per cui anche qui outdoor education e mindfulness come strumenti per migliorare il benessere in che modo questo questo obiettivo era legato al bisogni e sfide del background e abbiamo spiegato come verranno fatte il timing e come si misurano questi processi ultimo dei nostri obiettivi era sviluppare le competenze linguistiche interculturali di docenti e personale amministrativo per innescare cambiamenti in termini di modernizzazione e internazionalizzazione della scuola questo è importante perché l'erasmus non riguarda solo docenti e studenti ma deve includere tutta la scuola e quindi coinvolgere lo staff non docente in primis il dirigente scolastico la DSGA e la parte di segreteria è importantissima perché per esempio se vogliamo poi continuare l'internazionalizzazione della scuola è molto importante che la segreteria abbia anche gli strumenti linguistici per rispondere a una mail per aiutarci a fare un mail in agreement semplicemente per pagare una fattura per fortuna sempre di più nelle nostre segreterie arrivano persone anche anagraficamente un po' più giovani quindi che conoscono più l'inglese ma anche se l'erana grafica è alta non vuol dire che queste persone non si possano messere in gioco come per esempio è successo nella nostra scuola e quindi fare corsi di inglese specifici proprio per gestire la parte amministrativa anche qui ovviamente bisogna essere specifici nello spiegare perché noi scegliamo questo obiettivo in che modo lo misuriamo e quali sono i tempi per realizzarlo possiamo andare avanti allora l'abbiamo detto mille volte proprio secondo me alla base dell'idea di accreditamento che vi chiederanno nel modulo chi sono le persone coinvolte e qui ci vuole un team ci vuole una squadra è importante che questa discussione avvenga ancora prima di cominciare a pensare all'acreditamento verrà chiesto chi sono le persone che sono state coinvolte nel definire gli obiettivi del piano Erasmus e che tipo di discussione o preparazione ha avuto luogo per noi era una commissione Erasmus che si era formata negli anni attraverso l'implementazione di vari progetti K1 e che poi si era diciamo arricchita di altre persone che non avevano esperienze Erasmus ma che erano motivate ad averla quindi il fatto di definire bene chi fa cosa è importantissimo andiamo avanti ecco si arriva al punto dell'Erasmus plan qui vi verrà chiesto quali sono le attività che si pensa di fare come ha detto Marcella il numero che si deve includere nel K120 è un numero indicativo infatti se guardate viene chiesto di fare una stima per i primi quattro anni dei sette del progetto e il numero che si chiede è un numero stimato sia di studenti che di staff perché stimato perché non è detto che se io chiedo 10 mobilità mi venga assegnato un budget per 10 mobilità non è detto che io riesca poi a implementarle tutte quindi diciamo che si fa una stima sia dei numeri che ci servono sia dei numeri che sono sostenibili dalla nostra scuola una scuola piccola o con una segreteria che non è magari tanto avvezza alla rendicontazione Erasmus forse dovrebbe iniziare con dei numeri bassi e poi con il tempo aumentare in questo caso noi avevamo chiesto per il primo anno 10 mobilità per lo staff senza qui specificare anche se avevamo già in mente cos'è che volevamo fare però non importa specificare dove si va o per quanto tempo ma volevamo muovere 10 persone per fare corsi strutturati essenzialmente nel secondo anno abbiamo aggiunto le mobilità degli studenti 10 e diminuito in parte quello dello staff in fase di valutazione questa parte è quella che ci ha diciamo un po' penalizzato nel senso che l'agenzia nazionale un appunto che ci ha fatto è che secondo loro le mobilità erano troppo poche queste mobilità secondo loro erano troppo poche per apportare un vero cambiamento alla policy della scuola per cui diciamo quello che ci ha un po' più penalizzato in realtà bisogna qui fare fare ecco trovare un compromesso tra quello che la scuola può fare eravamo una piccola scuola e avevamo avuto molto spesso cambiamenti sia di dirigenti che di SGA il che comporta ogni volta di cominciare da capo anche nei rapporti e nella spiegazione per cui abbiamo valutato di partire con un numero piccolo adesso siamo al terzo anno abbiamo molto aumentato le mobilità perché da istituto da scuola media siamo diventati comprensivo sono aumentati anche i numeri dei docenti quindi chiederemo per il terzo anno non 10 ma 20 mobilità degli studenti e non 8 ma 20 mobilità dello staff docente e non docente se si può andare avanti allora qui comincia la parte di standard di qualità la prima parte riguarda i principi di base che abbiamo già visto inclusione e diversità la sostenibilità e la responsabilità ambientale l'educazione digitale e poi c'è il quarto sotto per ogni principio viene chiesto di specificare di verbalizzare com'è che io intendo nel mio piano Erasmus fa rispettare i principi di inclusione e diversità e qui bisogna averlo chiaro se non sia chiaro si discute si approfondisce in gruppo si vanno a rivedere i documenti della comunità europea la guida dell'Erasmus che è un ottimo strumento e si cerca di capire com'è che io rispetterò l'inclusione e la diversità che deve essere alla base di ogni progetto ovviamente Erasmus la sostenibilità ambientale per esempio con il nuovo settennio ci sono una serie di premi per chi usa i mezzi green per cui se ci si sposta con dei mezzi di trasporto più sostenibili il treno o piuttosto che l'autobus si viene premiati anche a livello economico con un budget maggiore o si può stare fuori più tempo per cui la sostenibilità è sia nei contenuti ma anche nelle modalità delle varie mobilità e l'educazione digitale ovviamente che sta alla base se possiamo andare ancora un po' avanti un'altra parte di standard di qualità riguarda il management delle attività di mobilità e qui di nuovo bisogna essere molto specifici intanto bisognerà spiegare come è stato deciso che è il coordinatore Erasmus nel mio caso nella commissione era una persona che aveva più competenze perché avevo già progettato due Erasmus soprattutto avevo fatto un TCA che io consiglio quindi i seminari di contatto che vengono via via banditi da varie agenzie europee e che sono specifici soprattutto per chi comincia e il seminario che avevo fatto a Varsav era proprio sulla progettazione quindi avevo acquisito degli strumenti che mi consentivano di affrontare una progettazione non da sola ma coordinando un gruppo poi chiederà chi sarà responsabile per monitorare e far rispettare i standard di qualità e qui ovviamente sarà il dirigente insieme a tutta la commissione e poi chiederà ancora in che modo il management quindi le figure apicali dell'organizzazione la DS e la DSGA saranno coinvolte nell'implementazione delle attività ed è ovvio che il coinvolgimento deve essere pieno deve essere anche continuo perché ovviamente anche solo pianificare delle mobilità in alcuni momenti piuttosto che in altri può voler dire impattare o no sull'andamento normale della scuola quindi anche mediare con la dirigente con la DSGA sui tempi e i modi di implementazione se si può andare avanti allora questa è un'altra parte molto importante l'Erasmus è un ottimo strumento si misura quanto ha funzionato quando si va a vedere come diciamo la prassi della nostra scuola è cambiata alla fine delle attività quindi c'è una domanda specifica che vi chiederà che cosa si farà per integrare i risultati delle attività di mobilità implementate nel lavoro quotidiano della vostra organizzazione e qui bisogna appunto brainstorming mettersi lì capire com'è che i risultati possono essere inclusi nella quotidianità della nostra azione per esempio noi quest'anno come scuola scuola media avevamo lavorato molto sulla sostenibilità e in seguito proprio a un evento di disseminazione delle mobilità Erasmus che avevamo fatto in cinque paesi europei abbiamo proposto a scuola nella nostra scuola di fare i Green Days cioè due giorni in cui tutta la scuola veniva diciamo coinvolta in attività laboratoriali che riguardavano la sostenibilità e l'attenzione all'ambiente e questo è stato proprio un frutto immediato diciamo anche a breve termine delle nostre mobilità Erasmus qui è stato importante il fatto che all'inizio dell'anno scolastico ci siamo trovati tutti quelli avevano fatto la mobilità Erasmus e abbiamo raccontato ai nostri colleghi cosa avevamo fatto e da lì poi è nata ulteriormente l'idea di estendere questi Green Days questi laboratori due giorni interi di laboratori a tutti gli studenti si può andare avanti e sto concludendo l'implementazione anche qui bisogna definire prima di tutto tra di noi e poi scrivere nel piano chi fa cosa quindi al di là del coordinatore Erasmus e delle altre persone che sono persone associate nell'applicazione quale altre persone saranno coinvolte e come qui è importante nella commissione dividersi i compiti qualcuno si occuperà della parte burocratica qualcuno si occuperà delle finanze qualcuno della parte logistica qualcuno della preparazione e monitoraggio dei partecipanti altri di comunicare con le organizzazioni qualcuno farà il sito per cui non solo per metterlo sulla domanda ma per poi farlo veramente nella pratica è necessario che la commissione si divida un po' i compiti e che nella commissione in qualche modo vengono inclusi anche almeno qualcuno della segreteria meglio ancora la DSGA io ho avuto esperienze bellissime di lavoro con le DSGA che avevano già esperienze di progettazione europea e che veramente ci hanno aiutato tantissimo nell'implementare i vari passi delle passate mobilità per cui è facile poi lamentarsi ma la segreteria non mi aiuta la segreteria va coinvolta fin dall'inizio motivata e anche formata e in questo modo poi quando si arriva a implementare il progetto molte difficoltà si appiano rimane tanto lavoro ma diciamo che alcune difficoltà si appiano si può andare avanti l'ultima l'ultima slide la disseminazione ovviamente ovviamente è la parte più importante perché è dove si va poi a vedere quanto le nostre mobilità e le nostre attività possono veramente influire a vari livelli sulla nostra comunità qui mi sa che ho saltato una parte vi verrà chiesto come si disseminano i risultati il punto A era all'interno della vostra organizzazione e questo va fatto attraverso nei consigli di classe attraverso delle formazioni ad hoc nei collegi nel consiglio di istituto in modo che tutta la comunità scolastica sia al corrente di quello che sta succedendo e possa anche approfittare delle competenze che vengono acquisite dovrete dovrete anche poi fare una lista in qualche modo dire com'è che questi risultati verranno condivisi con altre organizzazioni con il pubblico perché ci deve essere una ricaduta non solo all'interno della scuola ma anche nella comunità più ampia e in generale nella società civile per cui si possono promuovere attività lavoratoriali le aperte noi per esempio è già il secondo anno che partecipiamo agli Erasmus Days quindi a ottobre ci sono di solito tre giornate a livello europeo in cui si promuove l'Erasmus e quindi se si riesce come scuola a organizzare un'attività seminariale laboratoriale ma anche un concerto o una presentazione per raccontare cosa si fa a scuola di Erasmus quella è una vitrina incredibile perché poi si va sulla piattaforma europea e si vede cosa viene fatto in quei giorni in tutta Europa si possono prendere spunti e comunque c'è una grande visibilità infine come diceva Gianmarcella ovviamente in ogni attività di disseminazione bisogna che sia sottolineato il fatto che tutte queste attività vengono fatti con i fondi europei in particolare con i fondi Erasmus e quindi in ogni brochure pubblicazione slide bisogna riportare il logo dell'Erasmus io mi fermerei qui siamo abbastanza in orario con i tempi io non ho ancora visto le domande lascio un ultimo la parola a Marcella che vi dà dei link dei suggerimenti utili di materiale dove posso trovare cosa per avere idee grazie mille grazie mille sì in realtà appunto poi basterà andare a così vedere scruttare questi siti io le domande le ho viste alcune ad alcune hai già risposto per esempio quali documenti della scuola è bene allegare al forma la candidatura a 120 li hai detti prima quindi ritrovata nelle slide che poi verranno condivise rispondo ad un'altra domanda appunto questo materiale verrà poi inviato questa presentazione e il canale youtube di eTwinning Toscana metterà a disposizione la registrazione come anche già sono presenti già sono disponibili le registrazioni fatte il 24 gennaio su accreditamento e anche però azioni chiave 2 quindi le azioni chiave 2 e il ca122 anche i piccoli progetti a breve durata più nello specifico in maniera più tecnica e poi avevamo fatto anche un webinar su ESEP perché ho visto delle domande appunto sulla progettazione exit twinning alcune scuole vorrebbero presentare progetti su ESEP ma la piattaforma è difficile da usare lo sappiamo purtroppo ci sono stati molti problemi di bug quindi resettaggi aggiornamenti che adesso già sono migliorati siamo a buon punto anche su questo vi invito a rivedere il webinar svolto dai colleghi ambasciatori in febbraio con degli esempi di inserimento di progetto di gestione del progetto su ESEP poi noi da settembre nelle varie province della Toscana faremo anche dei workshop in presenza quindi per aiutarvi a iniziare perché magari qualcuno non aveva neanche esperienza sui twinning o a imparare a usare la nuova piattaforma che in realtà ha le stesse interfacce che aveva i twinning e i stessi principi strutturali anche di ricerca partner quindi non è una difficoltà dovuta alla mancanza di competenze ma una gestione della piattaforma a livello centrale che però si sta risolvendo e che quindi sarà pienamente operativa a breve ci sono comunque colleghi coraggiosi che l'hanno già fatto quest'anno e adesso presenteranno anche i certificati di qualità come qualsiasi anno in giugno e quindi ecco qui abbiamo dei siti per esempio europeana che è sempre più attivo e non c'è conosce il patrimonio cultuale digitale europeo trotto in 30 lingue loro fanno molti poi eventi anche in presenza come diceva Lucia le tca sono sempre più e si trovano nel sito erasmus numerose fortunatamente anche più più di prima queste possibilità di corsi online e in presenza che prima si trovavano sui twinning ma era un pochino più farraginoso adesso sul sito erasmus secondo me sono più accessibili e poi esep appunto dove trovare partner e mi chiedeva c'erano le domande altri gruppi se sui social specialmente facebook digitate erasmus plus ci sono i canali ufficiali in dire ma anche quelli poi stranieri dove mettendo un annuncio io l'ho fatto l'altro giorno un paio di persone mi hanno risposto perché sto cercando una scuola appunto per il nuovo progetto cammini e quindi può essere utile anche quello io per ora i miei partner sia per il car 229 che per l'accreditamento li ho trovati con l'ex e twinning quindi adesso a settimana mi metterò su esep e li cercherò lì però sicuramente sì qui potete trovare ecco per esempio le linee guida per prendere degli spunti un'altra domanda dove si possono trovare questi progetti prima in una slide avevo fatto vedere il link alle buone pratiche lì ci sono non solo i role model ma anche altri progetti che Erasmus mette a disposizione come buone pratiche su tutti i vari livelli di educazione degli adulti e scolastica e quindi lì si può prendere spunto facendo attenzione appunto come dicevo prima a non copiare direttamente il progetto ma degli spunti delle idee si possono certamente acquisire io invito e anzi molti ho visto anche oggi degli studenti delle medie che sono andati in cammino sul cammino di San Benedetto in Italia quindi non può essere un Erasmus è difficile farlo una cosa del genere con altri partner stranieri ma è fattibile se l'ho fatto io lo possono fare tutti e quindi invito anzi a creare progetti di questo tipo che però dovranno avere poi dei contenuti delle modalità delle differenze perché nel momento della valutazione comunque i valutatori hanno delle piattaforme per vedere se i progetti sono uguali ad altri già approvati quindi ecco l'originalità non l'abbiamo detto ma è uno dei misuratori dei valutatori anche oltre a quello che è la relevance la coerenza eccetera ma anche l'originalità però insomma non è non è non è obbligatoria ecco se uno però ha un progetto un'idea particolare originale è bene che che la metta in campo questo sicuramente dà un punteggio sì non so se vogliamo cominciare a rispondere domande perché sono veramente tante appunto alcune hai già risposto tu Lucia sì volevo solo un attimo segnalare una cosa e cioè che a proposito di europeana la scorsa settimana i twinning ha fatto un webinar molto interessante su europeana e progettazione europeana come tu accennavi è un sì è una piattaforma che raccoglie moltissime fonti e tra l'altro tra parentesi è uno strumento che è utilissimo per lavorare per esempio sulle immagini in trasversale sui vari ordini di scuola ve lo consiglio perché erano presenti un'ambasciatrice d'europeana e due ambasciatori ambasciatori erasmus e hanno fatto tantissimi esempi sui tre ordini di scuola e quindi insomma è un punto di partenza sia per la didattica quotidiana che per la progettazione europea quindi grazie di averlo citato fra gli altri documenti volete che metta le domande così abbiamo aspettate se le puoi rincorrere anche tu le condivido un secondo che qui mi devo muovere da un documento all'altro e c'è bisogno intanto ho visto la prima del documento e posso provare a rispondere nel senso ci chiedono appunto se si possono presentare più progetti contemporaneamente allora l'accreditamento è già un progetto enorme un grosso lavoro che va fatto il consiglio che mi sento di dare a chi comincia è provate in questo in questo anno ho seguito un paio di istituti che volevano provare a fare l'accreditamento uno a Castagneto l'altro a Livorno è comunque educativo scrivere un accreditamento perché anche se non andasse a buon fine alla fine riceverete comunque una scheda una valutazione in cui vengono sottolineati punti di forza e punti di debolezza per cui è bene farlo è bene scriverlo se anche andasse male è il punto di partenza per migliorare per cui è un esercizio da fare come diceva Marcella se la scadenza è ottobre non si può cominciare a settembre è ora il momento di cominciare a ragionare riunire la commissione prendersi l'estate per fare il brainstorming e poi a settembre mettersi lì e scriverlo veramente dopo aver coinvolto il più possibile tutti i vari ordini di scuola e le varie componenti se uno non se la sente perché un'altra un'altra scuola che ho seguito ho detto no ma se l'accreditamento è così è troppo perché se io devo pensare a Rav e Toth eccetera un consiglio se si comincia da zero e non abbiamo mai avuto esperienze di progettazione Erasmus è di provare magari un progetto di breve termine quindi un K122 che è più piccolo è meno complesso e anche ha un range più breve nel tempo e forse più gestibile potrebbe essere una palestra che dà gli strumenti anche un po' all'entusiasmo per poi cimentarsi nel K120 ovviamente più progetti insieme non ha senso cioè o si presenta il K120 o il K122 è possibile tuttavia se uno magari è parte di un partenariato presentare anche un accreditamento le due cose sono compatibili attenzione perché richiede comunque un bel impegno per cui bisogna un po' misurare le forze e vedere se si riesce poi come scuola io parlo perché siamo una scuola molto piccola è una scuola che negli anni ha cambiato spessissimo sia il dirigente scolastico che tutta la segreteria quindi dipende un po' dalla scuola che abbiamo se abbiamo una scuola forte con una segreteria forte una DSGA che è presente si può osare altrimenti ognuno conosce la sua scuola e è bene partire piccoli e poi aumentare nel tempo non so cosa ne pensi Marcella no no sono sì come d'accordo e appunto se si sta chiedendo un CA 120 se si sta pensando di farlo di solito la scadenza del CA 122 quindi il progetto a breve termine è tipo il 4 ottobre quindi a ridosso è controproducente presentare entrambi uno dei due sicuramente non verrà approvato e per quanto un CA 122 è più snello più mirato chiaramente non ha la forza e l'ampiezza poi di un accreditamento che poi dà molte più possibilità sia per gli studenti che per lo staff ed è poi a lungo termine perché una volta ottenuto ogni anno successivo basterà tra virgolette presentare il CA 121 in febbraio con le mobilità che per quell'anno si prevedono e come diceva prima Lucia si stima all'inizio nel CA 120 misurando bene a seconda del background la quantità di mobilità nell'arco temporale degli anni che restano nel caso mio quando l'avevamo scritto era il primo anno avevamo davanti sette anni adesso ne abbiamo di meno e quindi bisognerà calcolare anche questo e poi di anno in anno vedere a febbraio quante mobilità si mettono in atto una scuola come era quella mia di Verona che aveva sui 1500 studenti con tre indirizzi noi il secondo anno quindi post pandemia senza il problema della pandemia avevamo messo in campo mi pare cinque mobilità ma sempre con di breve termine con gruppi piccoli massimo tredici persone nove dieci più gli accompagnatori poi due visite preparatorie un esperto mi pare un solo job shadowing tre mobilità di un mese per tre studenti nei tre paesi diversi le lingue che studiavano era un linguistico in parte anche quello quindi cercando di dare più possibilità alle persone all'istituto ma anche contenendo il numero di progetti di mobilità da richiedere perché non sapevamo perché poi il budget su quelle mobilità richieste arriverà verso giugno quindi noi ci si avevamo prefissi un obiettivo dicendo bene intanto li presentiamo tutte queste mobilità poi se il budget non sarà adeguato magari chiederemo qualcosina alle famiglie che è un conto chiedere 50-100 euro un conto chiedere 400-500 euro così è stato fatto per esempio per la Svezia perché la Svezia comunque è molto cara e quindi gli studenti hanno dovuto comunque pagare i trasporti locali hanno dovuto pagare qualche scena perché non erano appunto in famiglia però l'albergo l'aereo il viaggio è stato pagato da Erasmus e ecco quindi bisogna un po' calibrare poi anche in base ai budget che viene confermato che viene salito da Erasmus a maggio per il primo anno ricordo che noi avevamo chiesto 14 mobilità per il corso Clilla Erasmus ce ne aveva concesse 7 mentre per il progetto cammini ci aveva dato più giorni io ero tutta contenta invece che una settimana avevamo chiesto no 10 giorni 14 però noi siamo rimasti 10 giorni perché non potevamo mancare così tanto da scuola quindi alcune domande abbiamo risposto così la domanda è sempre di la prima di Bortolini del collega Bortolini come si può partecipare alla formazione di contatto non capisco bene cosa significa quella in presenza che faremo a settembre forse dei workshop lì USR diffonderà Toscana con delle note i nostri eventi oltre che nei social nei canali appunto ufficiali nel sito e quindi poi non so se forse Marcella indica forse si riferisce alle informazioni di contatto sì allora nel caso dei TCA che sono veramente una grandissima risorsa sul sito Erasmus Plus voi fate la ricerca TCA e nelle news vi appaiono le call per le TCA aperte ovviamente viene data priorità a chi non ha mai partecipato a una TCA a chi agli istituti che non hanno ancora un Erasmus attivo giustamente e quindi quella è una grandissima opportunità per cominciare un po' assaggiare cos'è bravissima Simona Apre ci sono call aperte anche attualmente ce n'è una per la Finlandia credo ce ne sono state sullo sviluppo sostenibile per cui se tenete d'occhio la pagina TCA troverete senz'altro qualcosa che vi può interessare un altro consiglio mandate la candidatura anche se vi sembra di non essere perfettamente dentro i criteri spesso succede che le TCA vanno a deserto perché magari nessuno ha fatto domanda per cui conviene sempre tenere d'occhio e mandarle e cominciare a formarsi e sono veramente un grandissimo strumento di formazione e aperti soprattutto appunto a chi sta cominciando l'Erasmus lo dicevo prima questo e comunque sono anche online perché comunque le TCA poi sono numeri un pochino più ristretti per partecipare in presenza ma online sono numerose e anche si sia anche su ESEP come nell'ex twinning penso poi si troveranno questo tipo di formazione mentre Miriam chiede che ho già sentito che il progetto di Marcella è diventato role model poi ce ne spiegherà nel dettaglio allora io volentieri parlerei ore del progetto cammini ma non c'è tempo ma il 13 marzo invece ne ho parlato dettagliatamente mostrando il sito mostrando tutti i materiali dei ragazzi le interviste video dell'arrivo e qui dentro si può trovare anche il progetto la documentazione la presentazione della progettualità se volete proprio scaricare il progetto io non so se lo posso fare Simona mi faccio cioè su Facebook il mio gruppo cammini a spasso leggero lì nelle guide nei documenti io ho messo pubblico in maniera pubblica proprio il progetto e quindi in quattro lingue quindi si può prendere e copiare tra virgolette per poi ampliare l'idea in maniera diversa e creare un proprio progetto per la scuola e questa scuola che dicevo di prima di Brescia che è andata sul camion di San Benedetto quattro giorni 60 km era su Repubblica oggi era una scuola media per cui complimenti coraggio io ho portato due secondi del liceo uno scientifico uno linguistico venerdì scorso da Prato a Pistoria 30 km ero un po' impaurita devo la verità è andata bene però ecco ora il prossimo anno cercheremo un'altra scuola perché come vi dicevo per essere finanziati con l'accaritamento dobbiamo avere poi delle scuole partner nei paesi che diceva Truna Lucia nei 27 paesi più 5 32 possibili e ecco tutta la parte una volta un accreditamento una volta presentato il C121 e arrivato il budget il budget lo sappiamo verso giugno poi c'è la convenzione da fare da stipulare tra la scuola e l'agenzia diciamo che si può cominciare a spendere questi soldi di norma cioè l'estate di mezzo si comincia a settembre fino al 31 agosto dell'anno successivo questi soldi richiesti a febbraio di quest'anno per esempio 2023 si cominceranno a spendere mettiamo a settembre 2023 fino al 31 agosto 2024 quindi sono così funziona di anno di anno in anno questa sì scusa prego Lucia no niente parlando di mobilità spesso appunto si pensa alle mobilità solo per gli studenti delle superiori in realtà è possibile portare in teoria anche i ragazzini dell'infante ovviamente non li porteremo però io non so se ci sta ascoltando ho conosciuto una docente di primaria che ha portato in mobilità i ragazzini di quinta elementare con ottimi risultati e quindi è possibile pensare le mobilità non solo per le medie e le superiori ma anche in teoria per la primaria e per quanto riguarda gli insegnanti addirittura una delle priorità che sta emergendo a livello dell'Unione Europea è lo 06 quindi la l'education quindi è molto importante promuovere le mobilità anche degli insegnanti della scuola dell'infanzia perché su alcuni alcuni temi come per esempio quelli che ci riguardano a noi come scuola sul benessere sulla mindfulness sull'outdoor veramente nell'infanzia si possono fare delle cose bellissime scusa Simona no niente assolutamente eravamo piano piano stiamo scorrendo queste domande io stavo guardando non so se la vedete ma credo di sì per avere un'idea diciamo un riferimento su quali siano i paesi su cui ci siano più chance perché questa è una cosa interessante i paesi dell'Unione hanno diversi budget che sono distribuiti dalle proprie agenzie nazionali e quindi spesso conviene essere diciamo in questo strategici e allearsi a paesi che abbiano più possibilità di no cosa ci dite più che pensare a quelli che possono avere più facilità o disponibilità è bene sarebbe bene guardare un po' il budget e quindi mi diceva appunto il collega che è andato in Svezia meglio scegliere i paesi del sud che costano un po' meno perché se no si sfura quasi sempre con i paesi del nord Danimarca Svezia eccetera però quindi questo detto in termini scusa io faccio la parte di quella che vuole le spiegazioni detto in termini concreti vuol dire che se diminuisce il cofinanziamento europeo aumenta deve aumentare il cofinanziamento delle scuole se uno vuole andare in Svezia no e vuole fare lo scambio con Stoccolma bisogna tirare fuori più soldi ecco questo detto in termini concreti no rispetto a quello che dicevi prima sì quello che dicevo prima che appunto questi ragazzi che erano pochi tra l'altro perché appunto le mobilità avevamo previsto trasversali e hanno dovuto pagarsi qualcosa le mie in Spagna l'anno scorso su un cammino quindi cambiando su ostelli per carità però di giorno in giorno non hanno speso nulla è vero che il budget era più alto noi avevamo solo due mobilità a causa pandemia previste per i ragazzi però però sì non erano i corsi chiaramente su un cammino andanno per ostelli in Spagna poi in Galizia i corsi sono minori anche per mangiare rispetto ad altri paesi questo sicuramente da tenere in considerazione ma poi la Spagna è infrazionata da sempre ma non per questo non c'è possibilità di trovare partner e io l'ho trovato ne troverò altri sicuramente anzi lo devo fare la Francia però anche la Francia insomma poi ecco per esempio il cammino in Francia quest'anno sulla francese una parte non esserci le ospitalità pellegrine ampie quindi per tante persone erano cari gli alberghi eccetera e quindi un po' contare questo un po' dipende dalle esigenze io nel mio caso i miei studenti background famoso studiavano francese spagnolo inglese con l'Inghilterra non potevo fare perché appunto non è più dentro il programma dopo la Brexit e quindi mi sono concentrata nel cercare scuole che fossero vicino a dei cammini francesi e spagnole posso aggiungere siccome quando arriva il budget è specificato il numero delle mobilità ma non la destinazione noi ci siamo trovati a lavorare sull'outdoor io avevo 5 colleghe o su 10 che volevano andare in Islanda facendo i conti sull'Islanda 5 mobilità in Islanda ci avrebbero mangiato tutto il budget quindi è un po' di una famiglia cioè noi abbiamo un tot da spendere va bene 2 facciamole in Islanda perché è comunque interessante ma non posso farle tutte in Islanda o tutte in Finlandia per cui l'outdoor è sicuramente interessante anche a Cipro e infatti attualmente ci sono due colleghi che sono a Cipro a fare una mobilità di outdoor di altissimo livello però a prezzi minori sia per il trasporto perché sappiamo appunto quando si va in Islanda il costo del volo non si riesce a coprire con il budget Erasmus sia a maggior ragione il supporto individuale per cui budget alla mano e anche priorità alla mano bisogna fare un po' delle scelte per cui sicuramente il sud Europa costa meno in molti casi offre anche delle formazioni molto di alto livello un'altra cosa un paese che è disponibilissimo a fare mobilità scambi eccetera è la Turchia io cercavo appunto un partner per portare dei ragazzi ho ricevuto tantissime proposte anche molto interessanti dalla Turchia il problema parlo per una scuola media è che ci vuole il visto si aumenta tutta una serie di problematiche anche di sicurezza degli studenti per cui un criterio per noi è stato noi siamo vicino all'aeroporto di Pisa che ci sia un volo diretto da Pisa perché sono piccoli e quindi andiamo in un posto dove c'è un volo diretto si diminuisce tutta una serie di problemi anche logistici e un posto dove le condizioni anche ambientali siano sicure tranquille andare in Turchia è un'esperienza meravigliosa abbiamo attualmente due colleghi che stanno facendo un corso sul digitale in Turchia hanno cominciato proprio stamane si trovano benissimo però una cosa è mandarci due adulti che sanno dove stanno andando sia portare i ragazzi quindi per i ragazzi scuole che si conoscono scuole che hanno un collegamento facile in modo da non dover fare più di un cambio e occhio al budget noi ci siamo trovati adesso a gestire la call 2022 abbiamo fatto dei calcoli mandando tre persone in Spagna due a Cipro e quattro in Irlanda ci rientro col budget se non ci rientro cambio qualcosa specialmente per i corsi strutturati per cui appunto dipende oltretutto anche tanto dalle priorità se io devo fare un corso di lingua mi rimane Malta o di Irlanda preferisco forse l'Irlanda se non c'è budget forse vada a Malta ecco qui le scelte sono è bene ribadire perché in questo cento volte sfugge che sia nel K120 che poi nel K21 a febbraio non dobbiamo mettere il format la scheda che ho fatto vedere prima era una scheda interna in quel caso al dipartimento di lingue perché nella nostra scuola si occupavano di viaggi da sempre quelli di lingue poi chi voleva partecipare degli altri docenti era benvenuto per capire quali erano i progetti perché in quel caso a febbraio nel K121 è bene avere i progetti chiari i partner dove mandare i ragazzi chiari non a caso voglio mandarli in Spagna poi però devo cercare il partner anche se non devo indicare Erasmus dove li mando è bene lì avere la chiarezza che magari mi può mancare nel K120 nel K121 è invece bene averla ma è una cosa interna alla scuola in realtà nel form da inviare è necessario mettere quante mobilità 10 studenti 2 accompagnatori quale tipo di mobilità di gruppo individuale a breve termine a lungo termine quanti esperti voglio chiamare quest'anno 2 quante visite preparatorie eccetera questo loro vogliono e nemmeno il periodo ed è per questo che poi facendo i miei conti anche magari in base al budget che arriva poi a giugno che viene comunicato dall'agenzia posso cambiare i miei piani non è fisso ecco per esempio nella mia ex scuola so che sono andati quest'anno a Madrid con degli studenti è una scuola partner che è stata trovata quest'anno nuova e non era stato previsto nel nostro piano del cacianto 21 a febbraio però è saltata la Polonia per motivi di guerra ovviamente c'erano un po' di difficoltà quest'inverno quindi per paura come diceva Lucia di mandare i ragazzi in una situazione instabile non sicura è salta dalla Polonia e quindi è stato sostituito con la mobilità con un'altra destinazione Madrid questo è interno alla scuola è bene averlo chiaro entrare nella scuola ma non dobbiamo comunicarlo ad Erasmus e quindi può essere variabile allora io se me lo consentite scorrerei su qualche altra domanda perché le domande sono molte abbiamo 15 minuti circa ne sto evidenziando qualcuna l'OID lo deve chiedere la dirigente o può richiederlo un membro della commissione ci chiedono direi è bene sì potrebbe anche essere il coordinatore a richiederlo è bene farlo con la DSGA per esempio per la nuova scuola mi sono messa lì con la DSGA in modo che poi quando c'è da allegare tutti i documenti legali la DSGA farà i suoi passi e ha a lei accesso ai documenti perché come coordinatori non abbiamo quindi l'OID in realtà si può chiedere anche noi ma è sempre bene tutta la parte burocratica condividerla con la DSGA o con la dirigente insomma dipende poi perché le credenziali come dici tu non sono credenziali che possiamo avere noi a meno che il dirigente o il DSGA non ce le passino diciamo nel senso se si fa insieme siamo sempre più esatto esatto sentite un'altra domanda ci chiedono se le commissioni che scrivono il progetto si possono pagare con i fondi Erasmus e se l'istituto normalmente preveda un compenso non capisco l'istituto che intendi c'è per l'istituto per le attività di progettazione per le attività di segreteria suppongo da come comunque la prima domanda è per la progettazione è previsto sono previsti compensi da pagare con i fondi Erasmus allora allora questo è un punto dedicato poi noi a settembre comunque faremo ecco questo non l'abbiamo magari ribadito abbastanza noi come gruppo ambasciatori un webinar sulla gestione appunto di Erasmus quindi più specifico magari per i bandi per la gestione economica il learning agreement perché appunto una volta ricevuto il budget e cominciamo a spendere questi soldi a fare a fare le mobilità c'è tutta una parte burocratica con il learning agreement che però adesso non pensateci adesso pensate a scrivere l'accreditamento poi il resto io quando l'ho scritto non avevo idea proprio niente poi l'anno scorso da febbraio mi è arrivato tra capo e collo quest'altra qua bene e mi sono messa a scriverli il learning agreement si fa e via e partire i contratti fortivi eccetera la domanda è un po' a monte nel senso che giustamente chi progetta spende competenze tempo e energie e quindi la domanda è più che legittima direi da parte della collega e dei colleghi suppongo insomma ci stavo arrivando quindi noi abbiamo fatto un po' lo sbaraglio come sempre un po' perché non conosciamo però io sono stata pagata per la progettazione del progetto cammini dopo vari mesi cioè a dicembre questo questo poi dipende dalle segreterie ovviamente però la mia scuola comunque prevede già in partenza ancora prima della mobilità un cento euro mi pare secondo delle tabelle che hanno hanno preso comuni per tutti uguali per la progettazione e poi c'è chiaramente il compenso per la mobilità per la rendicontazione tutta la parte burocratica del renegriment chiaramente poi questo nella mia ex scuola è stato anche condiviso con l'RSU una specie di contrattazione insomma la parola chiave come fin dall'inizio è la trasparenza questo mi pare la condivisione anche di queste schede però però Simona queste sono questioni che ho visto che c'era una domanda anche di questo tipo sono questioni interne alla scuola cioè noi possiamo dare dei consigli come anche la gestione della commissione la gestione della scelta del referente però poi sono questioni interne alla scuola ma quindi probabilmente i fondi di cui tu parli erano fondi di istituto e non fondi Erasmus o erano no no erano erano tra virgolette gli appassi delle Erasmus sì sì ok senti ascolta invece Giovanna ci chiede se K120 è applicabile anche CPIA e se si possono inserire partner stranieri nel K120 in che senso? no allora no ho visto questa domanda prima allora per il CPIA sì sicuramente i partner stranieri lo ribadisco non è più come il K229 di un tempo ogni scuola poi partner che noi troviamo straniera chiederà il proprio progetto Erasmus esempio con cui pagare le mobilità per i propri studenti l'accreditamento che noi otteniamo dopo aver fatto domanda ad ottobre paga per la nostra istituzione per i nostri studenti e i viaggi che faranno all'estero o per i nostri docenti o per il nostro staff o per gli esperti dall'estero che verranno che chiameremo non paga per le scuole partner le scuole partner devono avere un loro proprio Erasmus per esempio nel mio progetto cammini noi avevamo chiesto l'accreditamento l'abbiamo ottenuto la scuola francese e la scuola spagnola non avevano nulla hanno chiesto un K122 quindi un progetto a breve termine e anche l'accreditamento non lo hanno ottenuto il K122 sì hanno finanziato le mobilità in Italia e in Francia con il K122 loro ecco noi abbiamo finanziato e abbiamo pagato il viaggio a Pontevetra e ora il viaggio in Francia per i nostri studenti e per i nostri accompagnatori quindi ecco i partner ci servono nel momento in cui devo fare il K121 strutturare capire dove voglio mandare i ragazzi essere sicura di avere già dove mandarli il tipo di scuola e ambiente eccetera eccetera ma non con il budget e il finanziamento non hanno niente a che fare ok allora io stavo intanto scrivendo qualcosa e volete dare un'occhiata alle domande sono veramente tante io credo che sarà difficile riuscire a rispondere a tutte perché abbiamo ancora una decina di minuti vogliamo vedere questa del liceo Cecioni di Livorno di Viola per favore guardate un po' allora io credo che loro avranno presto una nostra ambasciatrice se non ho capito male tra l'altro loro vogliono chiedere l'acquisamento arriverà da loro la nostra ambasciatrice per cui sono fortunata beh allora Marta Manzanedo quindi trasferimento l'avevo saputo oggi quindi e quindi sono fortunata che potranno avere avvalersi del suo apporto e dice sì il collage in Francia potete inserire questo aspetto l'aspetto di avere già questo partner il progetto che faremo per richiedere l'accaritamento cioè più che mettere il nome che c'è questo appartenato col collage in Francia se c'è un progetto su una delle quattro dei quattro pilastri per esempio che vedevamo prima già in essere con questo collage perché no è bene mettere che c'è questo progetto noi per esempio a Verona avevamo messo che avevamo tanti scambi anche da tanti anni e il nostro istituto avrebbe voluto finanziarne qualcuno mantenere questi partenariati su tematiche che riguardavano l'immigrazione come già era stato fatto sull'ambiente l'acqua in particolare era già stato attivato un cash 229 sull'acqua con l'Olanda e sparendo il cash 229 chiedevamo con l'accreditamento per cui sì perché no però ripeto loro Erasmus non richiede i nomi dei partner né sul cash 120 né sul cash 121 questa è una cosa interna alla scuola allora rispondo io velocemente a Daniele Massella già detto un po' Marcella se si ottiene dunque il cash 121 è la richiesta del finanziamento annuale a giugno viene detto quanti soldi arrivano ma tra firmare la convenzione e poi avere i soldi passa tutta l'estate quindi i soldi arrivano il primo giugno ma si possono spendere in pratica dal primo settembre e durante il settembre si può modificare ovviamente il progetto il cash 121 addirittura è modificabile dopo un anno dopo un anno si può allungare di nove mesi si può chiedere più un maggiore finanziamento se sono intervenute le cose si può anche dire che non ce la facciamo a spendere tutti i soldi e che quindi vogliamo meno soldi e in quel modo da 15 mesi diventa un progetto di 24 mesi noi abbiamo dovuto far così perché da scuola media siamo passati istituto comprensivo quindi abbiamo avuto un sacco di problemi abbiamo allungato sia la col 21 e allungheremo anche la col 22 oltretutto a un certo punto si chiederà penso il quarto anno si fa un momento di verifica e a quel punto si può ulteriormente modificare perché un settembre è veramente lungo cambiano tantissime cose all'interno all'esterno e quindi in itineria c'è sicuramente la possibilità di apportare delle modifiche questa di Cinzia Becca sì è bene negli obiettivi suddividere le competenze che si vogliono creare sui docenti a ricaduta dell'istituto e lo staff e gli obiettivi invece più specifici per le mobilità per gli studenti che dici Lucia sì oppure specificare per esempio il digitale può essere avere una ricaduta sui docenti e sugli studenti questo è un po' la scelta del team che progetta in base anche a cosa ha intenzione di fare per raggiungere questi obiettivi quindi è possibile fare dedicare sia un obiettivo agli studenti e l'altro ai docenti sia farli trasversali per esempio il nostro terzo obiettivo era specificamente sui docenti per le competenze linguistiche ma di fatto se uno manda i ragazzi all'estero le competenze linguistiche migliorano automaticamente per cui sono poi molto collegati gli obiettivi che si raggiungono come docenti che devono sempre avere una ricaduta poi sugli studenti se no non ha senso ecco questa è importante secondo me un pochino un pochino sopra Simona per favore se le scuole questa cosa aspetta se le scuole possono progettare è solo persa con scuole di alta formazione ah no era sotto aspetta vabbè i studi superiori eccetera e questo è un consorzio se si fa questo appunto è possibile certo progettare tra scuole medie studi superiori e partnership con scuole di alta formazione oppure anche antiformatori però si va a chiedere un accreditamento con un consorzio e quindi ci sarà poi una scuola o un istituto uno di questi partner che fa parte del consorzio che sarà il lente gestore delle finanze la cassiere però ora Lucia appunto ne ha uno e chi parte all'inizio insomma forse è un po' tanto impegnativo sì normalmente il consorzio viene fatto dall'USR quindi dall'ufficio scolastico regionale che coinvolge le scuole del territorio gli enti di università eccetera perché aumenta tantissimo la complessità anche della gestione finanziaria per cui uno ha già una serie di una bella segreteria bella forte che può sostenere e ha già una serie di contatti altrimenti è complesso ecco noi siamo stati costretti a fare un consorzio ma perché la mia scuola media come ho detto prima è stata verticalizzata è stata divisa in due comprensivi e quindi per mantenere il diritto di entrambe le parti a usufruire dell'Erasmus le due scuole si sono consorziate ma la difficoltà è aumentata non dico in modo esponenziale ma molto aumentata per cui dipende appunto dal background di ogni istituzione e dalle valutazioni che fa poi la commissione sulla selezione trasparente guarda quali metodi io appunto avevo quel bando per selezionare per esempio per una visita preparatoria ai docenti i metodi innanzitutto una commissione ampia e allargata con un referente scelto in base in questo caso sì all'esperienza e che però per me ripeto dovrebbe tornare cioè se io fossi referente e per quanto anche ambasciatrice in una scuola ma nella commissione poi ci sono persone che hanno imparato hanno lavorato dentro la commissione dentro l'accreditamento hanno fatto un percorso una formazione perché no perché non tornare anche il referente anziché lasciarlo lì sei anni sette cinque quello che rimane io lo trovo un po' limitante anche se quel referente l'ha scritto poi l'erasmus insieme ad altre persone non si scrive un erasmus da soli non si gestisce un erasmus da soli quindi la trasparenza viene prima di tutto da le persone che lo hanno messo in piedi i dirigenti che appunto creano questo ambiente di condivisione e poi con i bandi sia per i ragazzi magari andiamo più a guardare il merito l'isee un po' più tra virgolette sistematico per i docenti in base a quello che si vuole andare a fare ho fatto l'esempio per la del CLIL quindi in quel caso una competenza linguistica nella lingua CLIL che si vuole poi riversare le classi sarà comunque un vantaggio altrimenti un job shadowing invece magari secondo me sarebbe un vantaggio privilegiare dare passo la precedenza a chi non ha esperienza e vuole imparare se la vuole fare le visite preparatorie lì se ci sono più persone si può fare un bando come quello che volevo mostrare ma non abbiamo tempo ma nella maggior parte dei casi se io ho uno scambio lo faccio trasversale propongo io il partner scuola oppure il mio progetto cammini e lo presentavo io è chiaro che la visita preparatoria la farò io se invece è una scuola che non si conosce dove si vuole mandare uno studente che parteciperà a un bando per una mobilità a lungo termine ci sono più docenti che vogliono andare a controllare a verificare a conoscere questa scuola si farà un bando con dei criteri adibiti insomma a quel tipo di attività allora dunque noi siamo arrivati alle 19 e le domande sono ancora tante e non so se vogliamo sicuramente noi questo fare delle domande lo avremo tra l'altro sarà uno dei nostri una delle nostre priorità del gruppo toscano aprire uno spazio di dialogo diretto con i docenti interessati ai progetti ESEP e Twinning ai progetti Erasmus e questo naturalmente sarà però con l'anno nuovo quindi certamente chi dovrà lavorare in queste settimane in questi mesi al processo di accreditamento avrebbe bisogno di una risposta più pronta noi siamo molto contenti di tutte queste domande adesso vedremo di trovare con gli ambasciatori una soluzione magari più nell'immediato nel frattempo possiamo prendiamone una ultima direi dunque la registrazione come abbiamo già detto la troviamo la troverete sul canale YouTube Twinning Toscana il tempo tecnico di poterla scaricare dalla piattaforma GoToWebinar la caricherò in su YouTube per quello che riguarda il materiale quindi la presentazione la condivideremo come vi scrivevo sulla mail sull'email che avete lasciato al momento dell'iscrizione una cosa di cui raccomando tutti anche in futuro è di controllare con attenzione l'indirizzo mail che avete inviato che avete lasciato sul modulo perché quello è l'unico modo che noi abbiamo per contattarvi quindi se non vi arriva l'accesso non vi arrivano le informazioni di accesso al webinar non vi arriva il link alla presentazione purtroppo è dovuto al fatto che avete magari lasciato un'email che non consultate o c'è un errore nell'indirizzo però se siete qui e ci sentite vuol dire che tutto funziona perché io ho mandato gli accessi a tutti quelli che erano sul nostro file Google vogliamo prendere un'ultima domanda non so Lucia hai visto qualcosa che ti che ti potesse o anche Marcella così da chi le mobilità un progetto approvato quanto immobilità può portare dipende dalla grandezza della scuola quindi quello che si diceva prima la coerenza anche nella richiesta delle mobilità sia nel K120 che nel K121 ci vuole una misurazione interna ecco noi ne avevamo previste tra tra alunni e docenti una settantina ma eravamo una grande scuola eravamo al primo anno di accreditamento e quindi c'era ancora più spazio c'era una coperta un po' più larga Lucia hai visto qualcosa che ti le domande sono davvero tante nel frattempo ribadisco quello che è stato già detto velocemente cioè che la piattaforma ESEP richiede un po' di pazienza ancora e come già accennava Marcella in precedenza non bisogna demordere perché via via le funzionalità sono vengono implementate ci sono dei bug che sono in via di risoluzione e quindi bisogna insistere perché tra l'altro e-tweening è stato fin qui e naturalmente noi ci auguriamo e siamo certi sarà uno strumento eccezionale per trovare partner ma anche non solo per trovare partner Erasmus ma anche per lavorare proprio come spazio di lavoro per la progettazione con i partner come diciamo galleria per la documentazione e tante altre cose per cui è soltanto che non è cosa da poco ma è soltanto un aspetto tecnico che è in fase di risoluzione scusa Lucia ti do la parola sì l'ultima ne avevo già parlato su quanti obiettivi mettere ovviamente dipende da cosa abbiamo in mente ma less is better pochi e ben declinati quindi è inutile mettere dieci obiettivi che poi facciamo anche fatica a declinare a collegare al background noi eravamo tentati da cinque obiettivi poi li abbiamo ridotti a tre e penso che abbiamo fatto una scelta giusta tre quattro massimo cinque ecco sui tre io sarei tranquilla perché poi non c'è solo l'implementazione ma in qualche modo alla fine di ogni progetto che ha 121 c'è una rendicontazione che deve essere molto puntuale per cui è molto più facile su pochi obiettivi ben delineati rendicontare anche monitorare e valutare quindi poi ovviamente ogni commissione parte dal suo background valuta i bisogni in base a quello decide non so Marcella da due a quattro penso sia il numero corretto di obiettivi sì noi ne avevamo fatti tre però quell'anno con la pandemia era stato aperto questo obiettivo creatività avevamo messo un teatro di Shakespeare in inglese e sostenibilità appunto avevamo messo il progetto cammini quindi diciamo cinque ma perché erano due progetti in più che rispondevano a queste call specifiche gli obiettivi di accreditamento vero e proprio erano tre ok allora io ringrazio voi due naturalmente Marcella Biserni Lucia Cruschelli e ringrazio tutti i docenti colleghi dirigenti e tutti i colleghi che sono intervenuti a questo webinar di stasera vi rimando al secondo appuntamento dedicato all'accreditamento che si svolgerà a rientro dalla pausa estiva nel frattempo vi invieremo la registrazione e il link alle slide e vi auguriamo naturalmente buon lavoro in bocca al lupo e vi diamo appuntamento presto con i nostri con i nostri webinar e con i nostri eventi in presenza i quali potranno essere trovati sia tramite appunto comunicazione istituzionale da parte dell'ufficio scolastico regionale per la Toscana quindi certamente arriveranno alle segreterie arriveranno poi ai referenti Erasmus referenti ESEP e Twinning però tenete conto del fatto che ci sono anche i nostri canali social quindi Facebook quindi Instagram oltre a YouTube che diciamo a volte hanno una via poiché informale a tratti anche più non dico più efficace ma più veloce e quindi tenete d'occhio anche i nostri i nostri canali informativi social perché sicuramente li riporteremo tutti i nostri programmi con le scadenze le modalità di iscrizione a questi eventi che ricordo sono gratuiti aperti a tutti i docenti e dirigenti ovviamente e personale della scuola e sono finanziati dall'agenzia Erasmus Plus Indire tramite il piano di formazione regionale e Twinning Toscana che è realizzato da Twinning Toscana in collaborazione con il gruppo degli ambasciatori scuole Erasmus Plus il referente istituzionale presso OSR Antonietta Marini con la validissima il validissimo supporto della professoressa Daniela Cecchi presso OSR da me e Simona Bernabè che sono la referente pedagogica regionale e dalla scuola centro di costo che si occupa di tutti gli aspetti amministrativi che è il liceo statale Rosmini di Grosseto io credo di aver detto tutto vi saluto vi ringrazio ancora vi auguro una buona serata grazie a tutti grazie Simona grazie a tutti grazie a presto grazie a tutti